Benvenuti, continuiamo sempre a parlare dei pennelli per quanto riguarda le nuove versioni di Photoshop adesso vediamo come usarli e come utilizzare i tasti di serata rapida per cambiare alcune impostazioni come la dimensione e la durezza. Ora qui abbiamo il nostro pennello normale tondo, abbiamo una spaziatura abbastanza elevata e la dimensione, guardate il colore primo piano rosso, andiamo a cliccare e vedete abbiamo un pennello praticamente a durezza 100% e una spazzatura alta e quindi un pennello pieno e duro per avere un pennello morbido dobbiamo diminuire la durezza, mettiamo ad esempio la durezza al 50% circa e qui vedete adesso un pennello molto morbido, vedete i bordi sono sfumati, se portiamo zero naturalmente aumentiamo questa morbidezza, ecco qua, e abbiamo i bordi molto sfumati. Queste modifiche della durezza e della dimensione le possiamo ottenere non soltanto attraverso il pannello ma anche con i tasti di serata rapida, adesso vi faccio vedere come. Una volta serato il nostro pennello dobbiamo premere il tasto alt, tasto destro del mouse e guardate, se trasciniamo il nostro mouse verso destra o verso sinistra aumentiamo e diminuiamo le dimensioni del pennello e lo vediamo nel quadratino nero, vedete il diametro 613 pixel eccetera. Se invece alziamo verso l'alto o verso il basso abbiamo un pennello con la durezza 100% verso il basso mentre diminuiamo la durezza andando sempre più in alto portandolo a zero. Se da voi non dovesse funzionare questa operazione dovete andare in modifica e poi preferenze lo trovate proprio sotto, adesso voi non lo vedete, poi preferenze e poi strumenti vi si aprirà la finestra degli strumenti e dovete selezionare, vedete qui, questa casellina varia la durezza dei pennelli tondi in base al movimento ad verticale. Se non avete selezionato questa casella, guardate cosa cambia, allora riproviamo, adesso ci mettiamo qui quindi premo il tasto alt, poi naturalmente vedete aumento le dimensioni da destra a sinistra se vado sopra e sotto aumento l'opacità, non più la durezza ma in questo caso l'opacità. Decidete voi, ma secondo me è meglio mantenere, andando sempre in modifica, preferenze e poi strumenti mantenere varia durezza dei pennelli tondi in base al movimento ad verticale. E chiudiamo. E comunque noi possiamo abbassare l'opacità o aumentare l'opacità qui dalla barra delle opzioni dello strumento del pennello, vedete, aumentando o diminuendo l'opacità oppure inserendo manualmente un numero qui all'interno della nostra casellina. Adesso diminuisco un attimo la dimensione del pennello e poi abbiamo, sempre qui nella barra delle opzioni, abbiamo i metodi di fusione. Adesso vedete, creo un tratto e possiamo, ad esempio, vedere scolora. Vedete che se li premo ancora sopra abbiamo un metodo di fusione, in questo caso scolora, ha portato al nostro pennello, al nostro tratto del pennello. Ora, guardate come funzionano l'opacità e il flusso. Allora, impostiamo, ad esempio, intanto cambiamo e mettiamo normale. Qui impostiamo un'opacità, diciamo così, al 30, circa il 30%. Se noi dipingiamo, teniamo appremuto il tasto sinistro del mouse e ripassiamo sopra, vedete, noi non raggiungiamo il 100% del colore, cioè raggiungiamo il massimo dell'opacità impostato, in questo caso al 33%, naturalmente sempre tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Se invece portiamo l'opacità al 100% e portiamo un flusso molto basso, clicco, vedete, e se io ripasso sopra, ecco che piano piano raggiungo il 100% passando più volte sopra allo stesso tratto. In ugual modo, se noi adesso qui abbassiamo l'opacità, la portiamo per esempio a un 30%, 31%, lasciamo il flusso 1%, clicco, vedete, e qui non raggiungo il 100% perché naturalmente ho impostato l'opacità al 31%, quindi il massimo che raggiungo è un'opacità del 31%. Ora, prendiamo sempre un pennello morbido, con durezza diciamo 20-30%, e poi clicchiamo, vedete, non succede niente, cioè io tengo premuto il tasto sinistro del mouse e rimane il mio pennello, ma se noi clicchiamo su questa iconcina, cioè quella dell'aerografo, se teniamo premuto, ecco qua che cambia la situazione, cioè praticamente l'aerografo, man mano che teniamo premuto, viene erogato più colore. Un'altra cosa che mi ero scordato di prima, per quanto riguarda la grandezza, le dimensioni e la durezza del pennello tramite i tasti di sede rapida, potete provare anche, non solo col tasto Alt, ma anche premendo la O accentata, vedete che diminuisce la grandezza del pennello e la A accentata che invece aumenta le dimensioni del pennello. Attenzione, è possibile anche con la parentesi quadra aperta e la parentesi quadra tonta. Questo qui però non funziona sempre, dipende dalle versioni, quindi fate le vostre prove sia con la A accentata, sia con la parentesi quadra aperta e la parentesi quadra chiusa e vedete se il vostro pennello subisce dei cambiamenti. Vediamo ora le nuove funzioni del pennello e partiamo con uniformità. Lasciamo l'uniformità a zero, prendiamo un pennello colore rosso piccolo e proviamo a disegnare un cuore. Quindi adesso io mi impegno, vedete, e creo il mio cuore. Come vedete non è proprio un granché, vedete qui abbiamo tutti i bordi seghettati, non riesco naturalmente ad andare bene. Adesso qui portiamo l'uniformità diciamo a metà, circa il 50%, e riproviamo. E guardate come invece, adesso prima creo il mio cuore, notate la differenza, le nostre curve sono molto più morbide e rotonde. Se avete notato il nostro pennello viene tirato da un filo color magenta. Se non fosse così dobbiamo andare dove? In, sempre in modifica, poi sotto qui adesso lo vedete, preferenze e poi, scusate, preferenze, poi cursori. E qui dovete aver selezionato mostra linea pennello durante arrotondamento. E poi potete anche cambiare il colore del filo, in questo caso magenta. E premiamo ok. Naturalmente più l'uniformità è alta, più abbiamo una morbidezza nel nostro tratto. Vedete? Possiamo anche intervenire nelle impostazioni. Adesso qui cancello. Versiamo l'uniformità a 100, poi andiamo nelle impostazioni e proviamo con modalità filo tirato. Poi clicchiamo e guardate cosa succede. A cosa non succede? Cioè non succede niente fino a quando il filo non è tirato completamente. E naturalmente, ecco qua, quando raggiunge la fine, ecco qui che possiamo tirare il nostro filo e il nostro tratto. Guardate come usiamo un tratto molto morbido. Se naturalmente abbassiamo l'uniformità, avremo curve più brevi. Ecco qua, vedete come diventa molto più piccolo il nostro cerchio con il nostro filo. Ora, andiamo a vedere qua. Innanzitutto cancelliamo. Poi rimaniamo sempre a un'uniformità al 100%. Andiamo qui, mostra filo tirato e poi abbiamo messo in pari del tratto. Cioè praticamente io parto da qui. Intanto ingrandiamo un po' il nostro pennello. Parto da qui, vedete il nostro filo magenta segue il nostro tratto, lassio, e non succede niente. Cioè praticamente qui finisce il nostro tratto. Se inseriamo metti in pari alla fine del tratto, guardate cosa succede, parto, io trascino, poi quando lascio il mio dito sinistro del mouse, il tratto arriva fino alla fine dove mi sono posizionato col mio mouse. Per ultimo abbiamo qui il disegno simmetrico. Nella versione 2019, questa è la versione 2019, mi ricordo che bisognava attivarlo andando in modifica, poi preferenze, poi anteprima tecnologia. Adesso qui sotto non lo vedete, però c'è anteprima tecnologia. E qui c'era una voce che diceva attiva disegno simmetrico. Ora non c'è più nella versione 2019, evidentemente non serve più, però questo per darvi un'informazione. Comunque per questo argomento vi rimando al mio tutorial precedente, che spiego appunto come utilizzare questa tecnica del disegno simmetrico per creare forme molto originali. Ed è il tutorial 215 bis. Adesso qui chiudo e faccio comunque vedere se prendiamo ad esempio due assi, eccolo qua, poi prendiamo un pennello e proviamo, per esempio guardate qui, ecco che comincio a creare un disegno completamente simmetrico. Se poi parto anche da qui posso, vedete, creare forme particolari e naturalmente poi dovete prenderci un po' di mano, ma direi che l'effetto è assicurato. Quindi a questo punto vi saluto, andate a vedere il tutorial 215 bis e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.